Abbiamo completamente smantellato due piazze di spaccio, la piazza di spaccio di Bema e la piazza di spaccio di Cagliolo. A capo delle due piazze, due fratelli marocchini di 28 e 25 anni. L'operazione, brillantissima, si è tradotta ieri nell'arco di 12 ore nell'esecuzione di 21 ordinanze di custodia cautelare, 15 in carcere e 6 agli arresti domiciliari, in diverse regioni e con la collaborazione del settore polizia di frontiera di Tirano e delle squadre mobile di Milano, Verona, Bergamo, Varese, Pavia, Sassere e Siracusa, nei confronti di soggetti, in larga parte marocchini irregolari, ritenuti responsabili di reati di detenzione illecita, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Tra loro anche due donne. Durante l'attività investigativa sono state arrestate in flagranza quattro persone, sono stati sequestrati circa due chili tra eroina, cocaina ed hashish. Zona mia, il nome dato all'operazione. Sottolineare l'importanza che nell'ottica di questi spacciatori aveva la suddivisione rigida delle piazze di spaccio, dove gli altri gruppi di spacciatori marocchini, che come è noto pongono in essere attività di spaccio in molte zone della bassa valtellina, non potevano entrare. L'indagine è iniziata nel marzo 2023 con il preciso obiettivo di aggredire il fenomeno dello spaccio nei boschi alle fondamenta. Abbiamo studiato i personaggi, li abbiamo seguiti, li abbiamo intercettati e abbiamo capito come avviene tutta la trafila. Quindi il riparimento della sostanza stupefacente in territori più grandi, di Sondrio, quindi nelle metropoli di Milano o dei comuni vicini, il trasporto dello stupefacente in valtellina con l'ausilio dei cosiddetti vettori che forniscono agli spacciatori questo tipo di servizio. Tutti giovanissimi gli indagati, accomunati dalla voglia di guadagnare il più possibile, ma anche di spendere in serate abbigliamento griffato quando lasciavano i boschi alla volta delle città per il rifornimento. Caffè buono, latte buono arrivato, dicevano al telefono a chi li chiamava per le ordinazioni. Un esercito di circa 300 consumatori sulle due piazze, tra cui anche minorenni che si riaccavano addirittura in bici o in monopattino, a comprare la droga. 60 euro al grammo la cocaina, 20 l'eroina, 10 l'ashish. Identificati inoltre diversi soggetti, soprattutto valtellinesi, che hanno svolto opera di ausilio allo spaccio e agli spacciatori marocchini, fornendo riparo agli indagati nei casi di maltempo, portando nei boschi sostanze da taglio per lo stupefacente e consegnando agli spacciatori ogni genere alimentare, come pizza, kebab, birra, champagne, in cambio di denaro oppure di droga. Il ringraziamento in particolar modo va a tutti gli operatori della squadra mobile che hanno dimostrato una grandissima tenacia, un grandissimo impegno e un elevato livello di professionalità. Siamo una squadra mobile piccola e quindi sei mesi di indagine ci hanno richiesto un grandissimo sacrificio.